La onda è terza, James Thompson è già terzo, è entrato all'interno della Seat Terra su Nicolai Lini, però gli altri minerali la vede finissima, mi interessa, la vede, la vede, il futuro training, a un punto parco di cui la Seat, la Seat Leonda, seftica, seftica, che entra in pista, purtroppo la posizione è talmente delicata, soprattutto è difficile la manovra di Gabriele Tarquini che perfettamente incolume, però, è ancora lì, è un abitato, la sua Seat Leonda, spuntando l'avventura della vettura di Felix Portero, seftica, ricordiamo che la seftica metterà in pista per almeno due ciri, due ciri che dovrebbero essere recuperati, questa è una delle ultime decisioni del regolamento. Grazie.